eseguita l'autopsia su antonella geraldi sabato i funerali di antonella geraldi in cattedrale alle 15 e 30 calta nissetta bimbo si smarrisce la polizia lo ritrova guardia di finanza oscurati 59 siti web e 138 annunci controlli dei carabinieri nel nisseno ben trovati in questa edizione del nostro telegiornale eseguita l'autopsia su antonella geraldi si attende il referto è stata eseguita l'autopsia su antonella geraldi la donna di calta nissetta morta all'ospedale santelia lo scorso 6 gennaio dopo che era stato predisposto un intervento chirurgico dall'esame di cui si attendono i risultati ufficiali nelle prossime settimane sarebbero emersi un infarto intestinale e un'emorragia polmonare proprio dal referto ufficiale potrebbero arrivare alle risposte ai diversi interrogativi sulla causa del decesso la donna era arrivata al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali così si è reso necessario il ricovero e successivamente sarebbe stato programmato un intervento chirurgico dopo la morte di antonella geraldi i familiari si sono rivolte ai carabinieri chiedendo ulteriori approfondimenti da lì è stato aperto un fascicolo di indagine nei confronti di 14 persone la scomparsa di antonella geraldi ha destato profonda commozione nel comune nisseno dove era conosciuta e apprezzata per le doti umane e per la sua professionalità nell'attività commerciale di piante e fiori che gestiva insieme al marito in via calabria si terranno sabato alle 15 e 30 in cattedrale i funerali di antonella geraldi dopo l'autopsia sarà il momento dell'ultimo saluto il funerale di antonella geraldi la donna di 53 anni di caltanissetta morta all'ospedale sant'elia lo scorso 6 gennaio sarà celebrato sabato alle 15 e 30 nella chiesa cattedrale di caltanissetta per l'esito dell'esame autoptico bisognerà attendere risultati ufficiali che saranno disponibili nelle prossime settimane dai primi accertamenti sarebbero emersi un infarto intestinale e un'emorragia polmonare non si arresta intanto la commozione per la scomparsa della commerciante nissena molto conosciuta a caltanissetta sono tanti messaggi sui social che esprimono tristezza e dolore per la morte prematura della donna la camera ardente si terrà nella sala del commiato general di palermo in via piemonte 16 prima del funerale appunto che sarà sabato alle 15 e 30 alla cattedrale del capoluogo nisseno a caltanissetta un mimbo si smarrisce la polizia lo ritrova la commozione della madre per il lieto fine due equipaggi della sezione volanti sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì in una zona di periferia del capoluogo nisseno dopo che dalla sala operativa dei carabinieri era stata diramata una nota di ricerca di un bambino di 9 anni che si era allontanato dall'area condominiale dell'abitazione dei nonni stava giocando da quelle parti insieme ad altri coetani prima di percorrere le vie limitrofe a quando pare per curiosare partendo dalla descrizione del bambino e dei vestiti indossati i poliziotti avviavano le ricerche partendo proprio dalla zona dove era stato visto giocare poco dopo il piccolo veniva notato in una strada buia in lacrime perché si era smarrito non ritrovando più la strada per tornare dai nonni rassicurato il bambino saliva sull'auto di servizio al riparo dal freddo dove trovava acqua e biscotti in attesa dell'arrivo della madre dopo le identificazioni e una foto ricordo il bambino è stato affidato alla donna visibilmente commossa e grata nei confronti degli agenti per il lieto fine dopo qualche momento di comprensibile paura la guardia di finanza e nello specifico il nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche ha oscurato 59 siti web e 138 annunci relativi alla vendita di prodotti da fumo su piattaforme di commercio elettronico e social il servizio l'attenzione della guardia di finanza al contrabbando e la contraffazione non si arresta anzi grazie all'evoluzione tecnologica ha subito un incremento con una particolare attenzione al web in tale contesto il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza durante la costante attività di monitoraggio della rete ha individuato 59 siti e 138 annunci web che proponevano illecitamente l'acquisto di tabacco sigari sigarette liquidi da inalazione per sigarette elettroniche cartine e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette nel nostro paese c'è il divieto di vendita online di prodotti da fumo assimilati accessori che possono essere venduti soltanto dalle rivendita autorizzate l'indagine sul web ha consentito di individuare con precisione le risorse online finalizzate alla vendita illegale di prodotti da fumo soprattutto allo scopo di identificare i responsabili delle condotte illecite i quali saranno destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo numero 8 del 2016 inoltre è utile ricordare che con l'entrata in vigore dell'applicazione del Digital Service Act volta a creare un ambiente online più sicuro e responsabile tutti gli intermediari della rete dovranno rispettare precisi obblighi di trasparenza e due diligence finalizzate all'aumento degli standard di responsabilità e sorveglianza l'attività di polizia economico-finanziare a svolta finalizzata al contrasto delle forme di vendita e promozione legale dei prodotti da fumo attraverso i canali del web costituisce un importante obiettivo della Guardia di Finanza che in questo senso ha stipulato un apposito protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Tabaccai finalizzato a rafforzare la collaborazione nella lotta al contrabbando alla contraffazione di tabacchi lavorati e alla vendita illegale di prodotti da fumo Controlli dei carabinieri nel Nisseno quattro automobilisti trovati con un tasso alcolemico superiore alla norma Continua e si intensifica l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Caltanissetta per garantire maggiore tranquillità ai cittadini e alla quotidianità del comune Nisseno Nel corso dei controlli sono state verificate 97 macchine elevate 15 contravvenzioni al codice della strada ritirate tre carte di circolazione e quattro patenti identificate 175 persone dei feriti per guida e stato di ebrezza un 41enne e un 28enne di San Cataldo un 21enne di Serra di Falco e un 49enne di Caltanissetta tutti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma in particolare l'uomo di Caltanissetta è stato sanzionato per ubriachezza molesta e segnalato per oltraggio a pubblico ufficiale insieme ad altre due persone Quest'ultimi nei pressi di un esercizio commerciale in evidente stato di ebrezza alcolica disturbavano l'utenza e alla presenza di più persone avrebbero rivolto insulti verso i militari intervenuti su richiesta del titolare del locale Parliamo adesso dei lavoratori ex piani di inserimento professionale Schifani e Falcone dicono avviata interlocuzione con le società partecipate il servizio Una ricognizione tra le società partecipate della regione siciliana così da rintracciare eventuali vuoti di organico da colmare attraverso questa categoria di precari questo l'annuncio fatto dal governo regionale durante l'incontro con una delegazione di lavoratori del bacino ex PIP piani di inserimento professionali presenti il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'assessore regionale all'economia Marco Falcone che hanno affermato abbiamo già avviato una due diligence sui profili presenti e sui posti disponibili a seconda delle richieste che arriveranno dagli enti potremo riuscire in una prima fase a ridurre intanto il numero di precari ancora nel bacino nel frattempo a Roma proseguono tratteremo per il superamento dei tetti di spesa previsti dall'accordo Stato-Regione un vincolo tuttora vigente che ci limita il governo regionale sta già facendo tutto quanto e nelle proprie immediate possibilità per risolvere questa decennale pagina di precariato e non cesseremo di interloquire con il governo nazionale fino a quando non si troverà una soluzione definitiva e sostenibile che restituisca dignità professionale a tutti questi lavoratori sulla questione intervengono anche Nicolo Scaglione e Mimmo Russo della CISAL che parlano di un percorso che permetterà di porre fine ad una lunga stagione di precariato e ancora sottolineano abbiamo chiesto con forza l'attuazione dell'articolo 25 della legge 16 del 2022 che prevede l'assunzione nelle partecipate e per il quale è stato istituito un tavolo tecnico presso l'assessorato al bilancio con una convocazione per giovedì prossimo ponendo anche l'esigenza di affiancare un iter di accompagnamento volontario alla pensione e proseguono il governo si è inoltre impegnato a verificare nella prossima finanziaria un adeguamento del sussidio dei lavoratori su base Istat il polo pediatrico è il nostro grande obiettivo lo ha detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani partecipando all'inaugurazione del nuovo reparto di malattie infettive con 10 posti fra terapia subintensiva e intensiva dell'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo si tratta di un obiettivo, ha detto Schifani che intendo raggiungere a tutti i costi completare i lavori del grande polo pediatrico di Palermo che diventerà centro di riferimento per tutta l'Italia meridionale è la grande scommessa continua ancora il presidente della regione siciliana che abbiamo fatto i genitori con i bambini affetti da gravi malattie non devono soffrire dice ancora ancora di più perché costretti a portare i propri figli a Roma o Milano Disabilità 334 chiamate al centro d'ascolto della regione nei primi 11 mesi di attività Nei primi 11 mesi di attività sono state 334 le chiamate pervenute al telefono D il centro d'ascolto che la regione siciliana offre a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie il servizio attivo dal 1 febbraio 2022 nasce dalla collaborazione tra l'assessorato regionale alla famiglia e le politiche sociali e il garante regionale della persona con disabilità in co-progettazione con l'Ollus Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile si tratta di un ulteriore strumento di comunicazione e di ascolto commenta l'assessore Nuccia Albano messo a disposizione delle persone con disabilità per meglio affrontare le loro esigenze e le loro richieste i risultati ci danno ragione sono state numerose le telefonate giunte ed è importante che il servizio continui a fornire sostegno a questi cittadini e ai loro familiari che si trovano a dover affrontare problematiche di vario genere le telefonate sono pervenute maggiormente da soggetti residenti in Sicilia ma non sono mancate le chiamate anche da altre regioni italiane si sono avvalse del servizio principalmente persone con disabilità familiari, operatori della scuola e associazioni per avere informazioni su diritti e procedure da seguire dal PNRR il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arriveranno in Sicilia 58 milioni di euro destinati al settore della meccanizzazione agricola e altri 14 per l'ammodernamento dei frantoi oleari in tutto sono 72 milioni che daranno una spinta all'agricoltura siciliana verso l'innovazione della produzione così l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sanmartino in seguito ad una intesa sancita nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province per il riparto in favore di regioni e province autonome di 500 milioni di euro previsti dal PNRR che arriva su proposta del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida dopo la firma del decreto da parte del Ministro sarà compito delle realtà territoriali emanare i bandi presentato a Caltanissette il libro L'ossessione di Marcello Alessandra il servizio presso l'aula Morici della Fondazione Sicana si è tenuta la presentazione del libro L'ossessione dello psichiatra Marcello Alessandra il libro racconta del rapporto tra paziente e dottore che si trasforma in un'ossessione del paziente per la vita del suo psichiatra il dialogo con l'autore è stato moderato dalla direttrice dell'ufficio di esecuzione penale esterna Rosanna Provenzano è un bel racconto su fatti reali da psichiatra racconta la storia di un rapporto tra il paziente e il suo psichiatra il paziente si farà un'ossessione tra tutta questa storia perché si impossesserà in testa sua della famiglia e della vita del psichiatra e poi ci sono dei risvolti molto particolari una sorta di noir che si basa però su fatti reali l'oppsichiatra diventa un padre per il paziente la persona di riferimento finalmente qualcuno l'ascolta la persona che gli è mancata ovviamente nel periodo infantile e la storia poi racconterà tutte le faccende personali questo bisogno di ascolto che è quello che manca maggiormente oggi nella società di oggi andare all'oppsichiatra adesso significa poter parlare finalmente parlare con qualcuno alla volta non stessi diciamo che è strano che vengono noi pur a pagamento pur di parlare ma manca proprio l'ascolto da parte delle famiglie da parte degli amici ormai si è sottovaluto troppo questa necessità ogni persona che ha un proprio disagio e non di trovare qualcuno che possa veramente ascoltare e si ascoltano non soltanto con l'orecchio ma soprattutto col cuore è un libro ovviamente che ha molto a che fare con la materia diciamo della criminologia io dirigo l'ufficio di esecuzione penale esterna e noi siamo coloro che raccogliamo un po' queste storie storie di soggetti vulnerabili storie di persone ovviamente che hanno anche questa sofferenza psichica, psicologica più o meno grave e quindi questa storia è stata importante e ci piace raccontarla perché è un modo per entrare dentro una problematica leggere una diagnosi è una cosa legge una sentenza è una cosa e la sentenza e la diagnosi non sono assimilabili alla persona mentre raccontare una storia tra l'altro questo è comunque un thriller psicologico con delle forti componenti autobiografiche proprio in riferimento al lavoro dello psichiatra e quindi qui troveremo appunto la parte profonda dell'animo umano che spesso è incomprensibile sia difficile da capire che da gestire ma noi ovviamente siamo convinti che prendere in carico le persone a volte non significa guarirle ma significa stare accanto a questa sofferenza e quindi orientarne il passo La storia del gruppo scout Caltanissetta 4 in una mostra fotografica E' stata inaugurata qualche giorno fa e per l'esattezza domenica 8 gennaio la mostra del gruppo scout Gesci Caltanissetta 4 un modo per iniziare i festeggiamenti per celebrare i 60 anni del gruppo un traguardo che viene raccontato attraverso le foto che vanno dagli anni 60 ad oggi ma anche oggetti che fanno parte della vita quotidiana del mondo scout dai distintivi alle promesse dai fazzolettoni alle maglie che ricordano le esperienze vissute ci sono persino delle tende una più moderna e una sopraelevata dei primi anni 70 la mostra accoglierà i visitatori nella chiesa di San Sebastiano anche nelle prossime domeniche di gennaio All'interno di questa mostra troverete tre angoli dedicati ad ogni branca troviamo nell'angolo dei lupetti la legge importantissima la promessa e vengono raffigurati anche i personaggi del libro della giungla troverete Achela, Bagheera troverete anche il totem che è il simbolo dei lupetti che è un bastone con sopra proprio raffigurato un lupo che rappresenta proprio il branco il branco del Caltanissetta 4 si chiama branco Sioni troverete poi nella parte del branche G quindi la branca degli esploratori e delle guide troverete appunto i guidoni che tra l'altro sono qui alle mie spalle che raccontano la storia non solo delle squadrille attualmente presenti ma anche di quelle passate la fiamma proprio che rappresenta il reparto quindi con il simbolo a Gesci i colori del nostro gruppo che sono appunto il rosso e il blu e poi ovviamente troverete quelle che sono state le varie attività che sono state raccolte all'interno di foto libretti, magliette e addirittura una sfilza di fazzuettoni che ci raccontano proprio le varie attività a cui i nostri ragazzi hanno partecipato non solo quelle di oggi ma anche quelle di ieri e li troverete tutti appesi troverete anche un angolo dedicato a quella che è la branca RS la branca dei rover e delle escolte i loro punti gardi sono appunto il servizio e la strada quindi troverete appunto uno zaino una tenda e degli scarponi ma anche tantissime foto che rappresentano proprio il servizio l'essere a mettersi a disposizione degli altri tra l'altro ci saranno ci sono anche foto di diventi nazionali come le rotti nazionali come i rover a cui i nostri ragazzi appunto hanno partecipato e per finire diciamo che troverete quello che è stato il padre fondatore che ha dato la possibilità agli scout di insediarsi all'interno di San Sebastiano che è Don Pippo Magri quindi troverete appunto la sua foto al centro di San Sebastiano per ricordarci di essere grati a lui di questo prezioso tesoro che è appunto questo gruppo scout al via il progetto Biblioteca Innovativa alla Scuola Carducci di San Cataldo l'iniziativa si pone allo scopo di diffondere il piacere per la lettura attraverso la fruizione del patrimonio cartaceo incrementato di recente grazie all'iniziativa Io Leggo Perché e del vasto catalogo di libri digitali presenti nella biblioteca digitale Mlol entrambe le risorse saranno accessibili attraverso il prestito cartaceo digitale nelle biblioteche dei due plessi di istituto si legge così in una nota per ottenere il prestito del cartaceo digitale gli studenti potranno recarsi durante le ore di lezione nelle biblioteche dei plessi Balsamo e Carducci nelle ore di disponibilità indicate dal calendario previsto Parliamo adesso di calcio Serie D Domenica la San Cataldese ospiterà il Cittanova al Valentino Mazzola Con l'arrivo del fine settimana è tempo di calcio con la San Cataldese che si prepara alla seconda recita del 2023 Dopo la grande vittoria in trasferta contro il Sant'Agata la squadra del tecnico infantino si avvicina alla partita con la Cittanovese in programma domenica alle 14.30 allo stadio Valentino Mazzola valida per la diciannovesima giornata del girone I di Serie D Sarà un autentico scontro diretto con i calabresi che arrivano in Sicilia da terz'ultimo in classifica a sole quattro lunghezze da Verde Amaranto a 18 punti per la San Cataldese un appuntamento da non sbagliare per allontanare ulteriormente la zona calda della classifica e continuare con il sorriso l'inizio del nuovo anno Sarà una domenica caratterizzata dai tanti scontri diretti in un girone I da un lato totalmente dominato dal Catania dall'altro caratterizzato da un certo equilibrio che rende il torneo più affascinante e imprevedibile questo il calendario completo della diciannovesima giornata del campionato di Serie D girone I in programma domenica 15 gennaio alle 14.30 Eccellenza Domenica Lanissa sarà impegnata sul campo dell'oratorio di Marineo Impegno in trasferta a Marineo contro l'oratorio San Ciro e San Giorgio per la Nissa che domenica pomeriggio andrà a caccia dei tre punti per continuare il trend positivo dei risultati e inseguire il sogno playoff La squadra biancoscudata galvanizzata dal successo di domenica scorsa al Tomaselli contro il Casteldaccia si presenta al massimo della forma con tutta la squadra a completo compresi i due nuovi sudamericani Modula e Vignone Gli uomini di Alessio Sferrazza hanno lavorato sodo durante la settimana e vorranno uscire dal campo di Marineo con i tre punti per poi puntare il big match del 22 gennaio del Tomaselli contro la capolista Acragas Eccellenza Gironia 17esima giornata Castellammare Enna Parmon Valleleon Fortese Acragas Mazzara Casteldaccia Sciacca Nuova città di Gela Cus Palermo Profavara Resuttana San Lorenzo Oratorio San Ciro e Giorgio Nissa Mazzarese Don Carlo Misilmeri Adesso Volley Serie B2 Femminile L'Alba Verde sfida la capolista Zafferana per tentare l'impresa Scontro Scontro al vertice sabato pomeriggio per l'Alba Verde che ad Agi Castello affronta la capolista Zafferana Le pallavoliste Nissene sono reduci della schiacciante prova di forza contro la pallavolo Crotone e in settimana hanno lavorato al massimo per questa insidiosa trasferta contro le prime della classe al giro di boa del girone d'andata del campionato di serie B2 girone M Nel fine settimana la classifica avrà una prima stesura che sarà la base di partenza con cui le due squadre affronteranno poi la lunga volata del girone di ritorno Ma per avere il risponso circa la regina d'inverno bisognerà tentere l'epilogo del big match in programma da Agi Castello domani pomeriggio Entrambe le formazioni hanno lavorato intensamente anche durante la pausa natalizia e scenderanno in campo per dare vita ad un incontro che sulla carta si preannuncia ricco di pathos Ecco il quadro completo della tredicesima giornata Pallavolo Crotone Funivia Etna Procoriericina Fidelis Torretta Planet Ardens Comiso Zafferana Albaverde Saracena Gioiosa Bricociti Stefanese Volley Region Cus Catania Grazie per averci seguito adesso vi lasciamo al meteo e alle informazioni di pubblica utilità Buon proseguimento Ben trovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato quando ancora le correnti saranno umide dai quadranti settentrionali sull'Italia locali fenomeni sono attesi al sud meglio altrove ma possiamo osservare come da domenica questa estesa circolazione di bassa pressione alimentata d'aria artico-marittima dal mar di Norvegia apporterà condizioni di maltempo invernale su tutta Europa durante la prossima settimana anche sull'Italia con il ritorno della neve sulle Alpi e dell'Appennino nel dettaglio possiamo intanto notare la previsione per sabato giornata di variabilità su molte zone dell'Italia ma la prossima immagine ci conferma qualche locale piovasco all'estremo sud altrove andrà un po' meglio a parte piogge in arrivo per la Liguria dicevamo poi da domenica maltempo al nord Toscana e poi la prossima settimana tutta Italia investite da numerose perturbazioni dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno San Pio X via Napoleone Colaianni servizio notturno San Pio X via Napoleone Colaianni San Pio X San Pio X Grazie a tutti.